Benvenuto al Torino, perché hai scelto questo club? Perché so che è un gran club in Italia, è sempre interessante iniziare a giocare in un grande campionato che per quello che conosco può permettere a un difensore come me di crescere. So anche che una grande squadra, con tanti titoli vinti in passato, bisogna vincerne altri. Adesso quindi farò di tutto per questa squadra, per me e per i compagni, e per dare il massimo. Come sai Torino, è una piazza molto calda. A proposito dei tifosi, sei pronto? Sì, dovrebbe essere. È il terreno che va a parlare. Ma certo, bisogna esserlo. Sarà il campo a parlare. Ora tocca a me fare il possibile perché mi seguano. È ovunque così, ci sono sempre giocatori nuovi che arrivano e bisogna fare delle belle partite. Il Toro è un punto importante nella storia del calcio italiano. Farò del mio meglio.